I numeri secchi sull'intenzione di voto per il candidato sindaco mi vedono al 33,4%. Un risultato positivo che nei prossimi mesi trasformeremo in un vantaggio secco. A Pescara nessuno ha le elezioni in tasca e se qualcuno pensa il contrario si sbaglia di grosso. Sia chiaro inoltre che i sondaggi sono intenzioni ma la politica ha bisogno dei voti reali di persone reali. Alle idee è ben chiare Domenico Pettinari che questa mattina ha commentato a caldo il sondaggio realizzato da Noto commissionato da Forza Italia che lo dà al 4%. Masci avanti su Costantini vincerebbe al primo turno. Guardi, io ho i dati ufficiali in mano, il voto secco sul solo candidato sindaco a pagina 13 del sondaggio mi dà il 33,4%. Quindi sondato Pettinari sul voto secco sui candidati sindaci al 33,4%. Naturalmente sono sondaggi ma questo ci sprona sicuramente a fare meglio e andare avanti. Noi siamo, la risposta ce l'abbiamo ogni giorno dalla strada. I cittadini ci dicono tantissimi cittadini che non andrebbero più a votare, che torneranno a votare perché ci siamo noi. Quindi stiamo pescando nell'astensionismo in una cosa bellissima. Il sondaggio ci premia tantissimo, io non mi sorprendo perché è quello che dicono i cittadini sulla strada. Quindi questo è un dato reale. Poi c'è anche un errore nelle liste perché io non ce l'ho una lista che è stata sondata con quel nome ma tralasciamo questo. Il dato è ottimo che andiamo a rilevare il 33,4% sul candidato sindaco Domenico Pettinari. In qualche modo c'entra anche il voto disgiunto che ha creato qualche equivoco? Ma io non so questo. Sicuramente qui leggiamo un voto al solo candidato che premia il sottoscritto col 33,4% e poi lo vedremo il 10 giugno. Il 10 giugno faremo i conti davvero con i cittadini. Intanto il candidato sindaco civico Domenico Pettinari è tornato di nuova in strada, stavolta in Piazza Santa Caterina per denunciare la criminalità nella zona e per chiedere delle soluzioni. Siamo qui venuti a Piazza Santa Caterina proprio per i grandi problemi di Piazza Santa Caterina in materia di sicurezza pubblica. Qui abbiamo i cittadini che non ce la fanno più, vivono in un'emergenza sicurezza continua. Anche su questo abbiamo un pezzo del nostro programma che vorrebbe istituire un pattugliamento a piedi da parte del nucleo antidegrado dei vigili. Se dovessimo vincere istituiremo questo pattugliamento a piedi per ristabilire sicurezza in questa zona. Ma poi una contestazione alle marce indietro che ha fatto il sindaco Masci. Non si può sentire che si fa dietro front su Viali Marconi, dietro front sui T-Red, sui semafori. È un'amministrazione che sta smentendo se stessa. Grazie.